Dopo il sequestro, le dichiarazioni della sindaca Cecilia, francese, in una nota scrive L'intervento dei no e del sequestro dell'impianto di lavorazione dei rifiuti rientra in quel progetto di controllo del territorio che l'amministrazione comunale ha chiesto fin dall'anno scorso. Da un lato la nostra amministrazione si è mossa sui tavoli istituzionali, dicendo con fermezza no all'idea di trasformare la nostra zona industriale nel polo dell'industria del rifiuto, impedendo nuovi investimenti destinati alla lavorazione dei rifiuti sul nostro territorio. Dall'altro lato l'amministrazione ha chiesto a tutte le istituzioni in preposte un controllo serrato, puntuale, del nostro territorio. Abbiamo chiesto che tutto ciò che è presente sul nostro territorio per la lavorazione del rifiuto si attenesse con assoluta puntualità a norme e prescrizioni e che tutto ciò che non risultasse a norma non fosse assolutamente tollerato. I primi risultati incominciano ad aversi. La sollecitazione in vista dell'estate è che questa attenzione non venga meno e che i controlli siano continui. Nel frattempo l'amministrazione si è attivata anche sul terreno della bonifica dei siti esistenti sul nostro territorio e dismessi da anni. Battipaglio è stata ammessa ai primi finanziamenti. L'attenzione deve essere sempre tenuta altissima sulle questioni ambientali e la gestione dei rifiuti. Questo rimane l'impegno mio e dell'amministrazione.